Si chiama Zip, sai? Zip, bar e grill. È un posto dove vanno bugiardi, mascalzoni e tutti quei farabutti che mandano all'aria i matrimoni. Sto sistemando la cosa. No, la stai rovinando di più. Oddio. Zip, se vuoi sparami, ma io sono qui sul tuo patio, andrà in prigione. No, se sei dentro casa no, l'ho letto su Google. Muoviti, comincia a entrare. Grazie a tutti. Si chiama un nuovo tipo di threat al nostro mondo, questo potrebbe essere l'endio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu mondo virtuale in 3D. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.